Continua la marcia di avvicinamento della Salernitana che oggi pomeriggio alla Recchi svolgerà una seduta a porte chiusa in vista della trasferta di sabato a Terni. Una gara sulla carta difficile con i Granata che affronteranno una squadra alla disperata ricerca di punti per abbandonare una posizione di classifica scomoda. Dopo il K.O. in terra sannita le Fere cercano il pronto riscatto sfruttando il turno casalingo con Liverani che sta tentando di recuperare sia Masi che della Giovanna. I due calciatori ieri hanno svolto lavoro differenziato mentre non si è proprio allenato l'attaccante Robert Acquafresca colpito da un attacco influenzale. In casa Granata invece Bollini dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per l'ormai lungo decente Busellato. Rispetto alla sfida pareggiata martedì sera contro il Cittadella alla Recchi il tecnico Granata dovrebbe cambiare qualcosa proponendo dal primo minuto sia Oger che Zito in mediana. Ronaldo che ha rimediato sei punti di sutura alla testa si accomoderà in panchina così come Della Rocca che è pian piano sta recuperando il ritmo partita dopo diverse gare fuori. Anche Perico sembra pronto a ritrovare il posto in difesa sulla corsia di destra con Bittante che tornerà in panchina. In attacco Sprocati sembra destinato a ritrovare la maglia da titolare con Massimo Coda confermatissimo al centro dell'attacco. Rimane ancora da assegnare quindi un posto nel tridente con in Pro Terrosina a giocarsi una chance dal primo minuto.